Grazie a tutti hai visto il suo errore? l'ha sollevata e l'ha tenuta in alto invece doveva spostarsi in avanti fai fatica e ti aiuto ma cosa hai fatto? 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 non lo vedo ma cosa hai fatto? ii mi ha fatto una una un Risa! Allee! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.